Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città e buon giovedì 19 aprile. Purtroppo ancora una giornata contrassegnata dalla pioggia, quella di oggi a Torino e anche dal freddo che è tornato in queste ultime ore. Abbiamo quindi pioggia fin da questa mattina, una pioggia che ci accompagnerà per oggi, per tutta quanta la giornata e fino a sera, è previsto un miglioramento in arrivo a partire da domani, si perannuncia un weekend di bel tempo, per il momento ovviamente non sembra così. Quest'oggi quindi giornata decisamente bagnata qui in città, temperature massime che arriveranno nell'ordine dei 10 gradi circa, attualmente siamo intorno agli 8 gradi a cavallo del mezzogiorno. Vediamo adesso le notizie di viabilità con un occhio alla giornata di oggi ma anche a quella di domani perché ci sono alcune questioni abbastanza importanti. Oggi gli autovelox posizionati in città sono molti, li trovate sui corsi Grosseto, Trapani, Giulio Cesare, Siracusa, Vittorio Emanuele, Tazzoli, Orbassano, Cosenza, Galileo Ferrares, Allamano, Peschiera e Vercelli, nelle vie Santa Maria, Mazzarello, San Sovino, Zino Zini e Botticelli, in strada dell'aeroporto, in strada Pianezza, in lungo Stura Lazio e in viale a Gudio. Vi ricordo poi che sono attivi anche i controlli con telecamera fino alla giornata di sabato nelle vie Tripoli, Nizza e Genova e sui corsi Sebastopoli, Traiano e Cosenza e che questa notte dall'1 alle 3 sarà chiuso il sottopasso di Corso Massimo d'Azeglio per le operazioni di pulizia meccanizzata. Vi dicevo che diamo anche uno sguardo a domani perché domani mattina comincerà uno degli scioperi previsti per i mezzi pubblici nella giornata di domani, venerdì 20 aprile, allora per questo motivo non sarà attiva la ZTL centrale, quella che solitamente chiude l'area del centro storico con telecamere dalle 7.30 alle 10.30, non sarà attiva, saranno invece attive le limitazioni e le telecamere nelle vie riservate ai mezzi pubblici, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Vi dicevo dello sciopero, trovate il dettaglio delle fasce protette a partire dal sito della città come prima notizia e anche sul sito di GTT. Vediamo adesso qualche notizia a partire proprio dal sito della città, cominciando con l'iniziativa Puliamo il Sangone, edizione 2012, un'iniziativa che per il quarto anno consecutivo, questo sabato, il 21 di aprile, si rinnova e rinnova l'appuntamento con tutti quelli che sono interessati a pulire il torrente Sangone. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina del sito della provincia di Torino che trovate collegata a partire proprio dalla nostra home page. Altra iniziativa che vi segnaliamo è quella relativa a domenica 22 aprile, si intitola A passo di resistenza, si terrà nel territorio della circoscrizione 8, una celebrazione sportiva e culturale per la festa della liberazione. È prevista una gara podistica al mattino e poi una festa durante il pomeriggio che si terrà in piazza Madama Cristina. Trovate il programma completo dell'iniziativa a partire proprio dall'home page della città. E infine chiudiamo con una notizia che abbiamo tratto dall'edizione di oggi di Torino Click riguarda una nuova struttura per disabili che verrà inaugurata nella giornata di domani in via Taggia qui a Torino alle 15.30. Si chiama Casa Paradigma, gestita da una cooperativa che già da tempo si occupa di disabili e di tematiche ad essi correlate. Trovate alcune informazioni sull'articolo di Torino Click, una struttura in grado di ospitare circa 30 persone con disabilità gravi e medio gravi inserite nella struttura dalla città di Torino oppure dalle ASL Torino 1 e Torino 2. Bene, vediamo adesso alcuni appuntamenti per la serata. Cominciando dalla musica classica, l'auditorio Marturo Toscanini della Rai. Questa sera alle 20.30. Il concerto della stagione sinfonica prevede che l'orchestra sia diretta da Omer Mayl-Welber con il violino solista di Sergei Krylov. Si eseguiranno il concerto numero 2 per violino e orchestra di Prokofiev e la sinfonia numero 7 di Beethoven. L'inizio è previsto alle ore 20.30, come vi dicevo, i biglietti da 20 a 30 euro. Spostandoci invece a parlare di libri, al Legolibri questa sera alle ore 21, la presentazione del volume Franco Basaglia, un laboratorio italiano curato da Federico Leoni. Si tratta di una serie di saggi di Basaglia che vengono raccolti appunto da Federico Leoni e pubblicati da Mondadori. Appuntamento alle ore 21. Per il teatro la segnalazione è sempre per le ore 21 con un classico della commedia shakespeariana perché al Teatro Erba va in scena sogno di una notte di mezza estate per la regia di Enrico Fasella in scena tra gli altri Mario Acampa e Silvia Barbero. I biglietti vanno da 15 a 23 euro. L'inizio è come detto alle ore 21. E chiudiamo ancora con la musica perché si festeggiano i 25 anni di Hiroshima a Monamour con una tre giorni di festa e musica che comincia questa sera e si concluderà domenica. Allora stasera per il primo concerto di questa festa saranno sul palco tra gli altri Eugenio Finardi, Vittorio Cane e Dente. L'inizio a Hiroshima è previsto per le ore 21. I biglietti sono a 12 euro. È tutto anche per quest'oggi. Grazie per averci seguito, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale e a voi ovviamente l'augurio di una buona giornata.